ciao a tutti e benvenuti in questo video che è il terzo di tre l'ultima parte del sistema integrato x1 is di solax power abbiamo visto l'installazione vi ho presentato il prodotto con tutte le caratteristiche che sono molto molto interessanti nel primo video nel secondo l'abbiamo installato adesso vi faccio vedere come si attiva quindi un'informativa più per l'installatore per vedere la procedura di configurazione iniziale che faremo tramite display perché è uno dei pochi sistemi ancora in commercio che al display si riesce a fare tutto da lì ci sono i tasti vedrete che è una roba semplicissima tagliamo la testa al toro mi raccomando però prima di andare avanti iscrivetevi a voi non costa nulla solo un click ma mi aiutate molto a far crescere il canale ci spostiamo di là dove è installato facciamo tutta la procedura di prima configurazione allora siamo pronti per fare la prima accensione quindi abbiamo collegato tutto dobbiamo verificare che l'interruttore della stringa dell'inverter sia su off e che l'interruttore lì sulla sinistra delle batterie sia su off l'ordine di accensione è prima di tutto dare il grid quindi andiamo a tirare su il magneto termico differenziale che abbiamo messo nel quadro di protezione ac che arriva direttamente alla morsettiera grid del nostro inverter dovrebbe già accendersi il display ok vedete che si sta accendendo a questo punto armiamo già l'interruttore delle stringhe sulla sinistra dobbiamo accendere l'interruttore generale delle batterie e tenere premuto il pulsante per tre secondi di avviamento delle batterie inizia a fare clic sta attivando la nostra colonna qui avevamo già chiuso tutto ma se togliamo la copertura dovremo vedere i led della batteria che lampeggiano ora possiamo accendere l'inverter con l'interruttore qua sopra partono tutte le serie dei clic è tutto normale allora intanto abbiamo un display quindi ci dà dei dati in tempo reale senza dover andare a vedere l'applicazione eccetera i display stanno un po' scomparendo ma averlo è sempre una comodità in questo momento abbiamo una potenza di 0 watt una produzione giornaliera di 0 kilowattora abbiamo le batterie al 45 per cento l'icona della batteria sistema off qui lampeggia la spia della batteria la spia della c non abbiamo anomalie e abbiamo poi una serie di pulsanti il primo led blu ci dà già una prima senerazione quando è luce blu fissa l'inverter è in funzionamento normale o sta lavorando in eps ossia in modalità off grid quando lampeggia come in questo caso è in attesa sta facendo un check quando è spento l'inverter è in errore la spia di errore quando è spenta vuol dire che tutto normale quando è accesa c'è un'anomalia mentre la spia della batteria quando è fissa è tutto normale sta comunicando con l'inverter e sta lavorando quando lampeggia come in questo caso è sempre in comunicazione ok ma è in fase di attesa mentre se fosse spenta ci sarebbe comunque un errore con questo pulsante possiamo già entrare nel menu con i tasti direzionali possiamo scorrere le varie voci dobbiamo andare innanzitutto in setting entriamo sempre con questo tasto la passo de 0000 possiamo sistemare ad esempio l'ora e la data senza pellicola sicuramente il touch lavora meglio impostiamo quindi l'anno il mese e il giorno del mese poi ci spostiamo sotto e impostiamo l'ora torniamo indietro possiamo intanto cambiare la lingua e abbiamo l'italiano prima di andare avanti con le impostazioni e tutto la prima cosa che buona norma fare ma sempre e verificare che l'impianto sia aggiornato a livello di firmware quindi tramite il supporto tecnico al vostro distributore vi fate mandare il file da mettere in una chiavetta da 16 giga dove dovete creare una cartella che si chiama update con dentro una sottocartella che si chiama arm con dentro un'altra sottocartella che si chiama dsp dove inseriremo il nostro file che serve appunto per fare l'aggiornamento del dsp come si procede togliamo quindi il dongle usb perché la porta usb è anche quella che si usa per fare gli aggiornamenti di sistema inseriamo la nostra chiavetta semplicemente qui nel display viene già riconosciuta vedete che dice selezione aggiornamento ci spostiamo su dsp diamo conferma prende il file diamo di nuovo conferma diamo ok e parte la connessione con la chiavetta e l'aggiornamento ora è partito l'aggiornamento vedete che avanza siamo 7 8 per cento attendiamo che finisca in modo da essere sicuri di avere il sistema aggiornato soprattutto con tutti gli aggiornamenti di sicurezza come la cei 021 quando vi da aggiornamento riuscito come in questo caso possiamo togliere la chiavetta torniamo indietro e siamo di nuovo nella schermata principale possiamo a questo punto anche reinserire il dongle e vi faccio vedere come andare avanti con le impostazioni da display ma tenete conto che le impostazioni si possono fare anche da app collegandosi in locale direttamente alla chiavetta che genera un suo hotspot wifi per procedere con tutte queste impostazioni ma vi faccio vedere le impostazioni da display almeno quelle basilari perché tante volte magari qualcuno non è molto predisposto alla tecnologia app eccetera è un impianto che comunque anche completamente sconnesso potete avviarlo potete metterlo in funzione anche senza dover per forza smanettare con l'app chiaramente da app per chi è più pratico un po più tecnologico è molto più veloce è molto più più semplice da fare dopo aver impostato la data e l'ora dobbiamo rientrare nel menu andiamo in impostazioni e a questo punto dobbiamo a questo punto però entriamo con il codice installatore e non col codice utente standard dei 4 0 per accedere alle impostazioni avanzate andiamo quindi in impostazioni avanzate codice di sicurezza dobbiamo andare ad impostare la nostra c'è il 0 21 torniamo indietro andiamo poi ad esempio in controllo esportazione dove possiamo impostare quanti watt esportare o fare semplicemente l'esportazione a zero mettendo qua tutto zero qui sotto abbiamo poi la possibilità di definire se usare un meter o il ct integrato di fare l'autotest tutti i vari accessi al modbus eccetera la possibilità di gestire un ats esterno tutti i vari fattori di potenza abbiamo poi l'impostazione delle ps dove possiamo definire la frequenza la funzionalità drm tutte le impostazioni in parallele la possibilità di riscaldare le batterie tutta una serie di funzioni abbiamo poi anche dei parametri di griglia dove possiamo impostare un livello di sovratensione poi tutte le gestioni della carica batteria quindi possiamo impostare la corrente il soc massimo di ricarica della batteria e fare l'autotest dove possiamo fare tutti i test del caso e avere il report nel menu abbiamo poi la possibilità di andare a controllare anche le modalità di lavoro e possiamo decidere se mettere in funzione il sistema quindi l'interruttore in questo momento è spento possiamo da qui metterlo in acceso l'inverter fa partire tutti i controlli del caso parte la produzione la batteria va in carica vedete che il led diventa fisso anche la rete diventa fissa quindi abbiamo messo l'impianto in funzione ora scarichiamo l'app solax cloud ci attiviamo come installatore e l'utente invece farà una registrazione come utente finale per connetterci direttamente alla chiavetta e mettere l'impianto online ok come funziona il display in qualsiasi momento gli passate davanti lui dopo un po' si spegne lo riattivate la potenza è quello che sta mandando in casa quindi quello che sta leggendo il ct quello che abbiamo prodotto oggi la percentuale di batteria se poi entriamo nello stato del sistema vedete che ad esempio la prima stringa sta facendo 500 watt la seconda stringa un kilowatt e due la terza stringa un altro kilowatt e due e che tutto quello che in più vedete che sta andando in batteria perché in batteria stiamo mandando 2400 watt per caricarla mentre il resto lo sta fornendo l'impianto di casa per dare la potenza necessaria perfetto impianto in funzione adesso non resta che entrare nell'app quindi apriamo l'app solax cloud io sono già loggato come installatore altrimenti per richiedere un'attivazione di un account installatore dovete contattare direttamente il servizio tecnico dell'azienda o il distributore che vi ha venduto il materiale vedete che abbiamo queste due grosse macro categorie all'inizio elenco siti elenco utenti dobbiamo creare prima un sito che è un residenziale diamo un nome al sito e lo chiamiamo casa capacità fotovoltaica in kilowatt e qui ne abbiamo 8 capacità di stoccaggio in kilowatt ora qui ne abbiamo 10 siamo in italia ubicazione la prende in automatico col gps fuso orario più uno roma salviamo andiamo avanti fai clic su aggiungi dispositivo per aggiungerlo il tipo di dongle che abbiamo noi in questo caso è il wifi più lan dobbiamo fare la scansione del qr code che c'è sopra il dongle dispositivo trovato dispositivo aggiunto correttamente dobbiamo adesso connetterlo al wifi quindi alla mia rete che si chiama it ad mettendo la password dobbiamo in questo caso dare il consenso al telefono di connettersi all'hotspot che genera dispositivo vedete che si è connesso sta rilevando la comunicazione del dispositivo finito perfetto andiamo avanti col successivo congratulazioni hai creato con successo un nuovo sito visualizziamolo perfetto siamo dentro l'impianto vedete che ha una visualizzazione grafica molto semplice molto completa in questo momento abbiamo la batteria all 88 per cento che infatti coincide con quello che dice a display non stiamo prendendo nulla dalla rete la casa sta consumando 437 watt che stanno arrivando dalla batteria adesso sono quasi le 21 di sera sto registrando questa clip da domani inizieremo a vedere dentro l'app come funziona la produzione e tutto quanto vedete che nell'immagine è visualizzata anche una wallbox e una pompa di calore perché abbiamo la possibilità con solax power di integrare il nostro fotovoltaico con anche apparecchi sempre di solax o di terze parti torniamo alla pagina principale dell'app in elenco siti avremo tutti gli impianti se torniamo ancora indietro per condividere ora questo impianto con l'utente finale dobbiamo appunto creare un utente dove metteremo un nome di accesso l'email e tutto quanto per dare la possibilità al cliente finale di visualizzare tutto quello che concerne il suo impianto fotovoltaico ora lo uso per un po di tempo così poi vediamo anche come funziona lo storico e come si è comportato e faremo anche la prova del backup app dove troveremo tutti gli impianti installati come installatore o il proprio impianto come utente una volta visualizzato l'impianto ve lo faccio vedere qui in tempo reale ma adesso torniamo su questo punto vedete appunto tutto quello che sta facendo la casa in questo momento abbiamo un solare che mi sta fornendo solo questi 491 watt che sta tirando la casa perché le batterie sono già al 100% ci sono arrivate poco dopo le 11 perché comunque ho un grosso impianto fotovoltaico sfrutto tutti e tre gli mppt in ingresso non ho problemi a caricare questi 10 kilowattora se facciamo uno swipe a destra abbiamo la stessa visualizzazione ma in forma meno grafica e più schematica quella che preferite sotto abbiamo poi tutti i resoconti che sono i guadagni di oggi in base a come impostate le valute non fate caso ai miei perché sono tutti a caso abbiamo una finestra che analizza la batteria quindi la capacità la percentuale e lo stato attuale poi abbiamo qui in schermata nella home quello che abbiamo prodotto oggi quello che abbiamo prodotto da quando abbiamo attivato l'impianto quello che abbiamo consumato oggi tutti i benefici ambientali ma nella realtà dei fatti se entriamo qui ad esempio dove c'è scritto prodotto si apre tutto lo storico diviso per giorno mese anno oppure da quando l'abbiamo installato e come vedete da quando l'abbiamo installato abbiamo prodotto 482 kilowattora abbiamo consumato 505 quindi a parte i giorni di pioggia eccetera sono sempre stato indipendente ci spostiamo in anno qui sotto abbiamo tutti i flag da attivare possiamo vedere cosa abbiamo prodotto col fotovoltaico cosa ha consumato la casa un sacco di informazioni avrete un controllo completo di tutto quello che volete sapere del vostro impianto se avete esportato quanto avete esportato tutto quello che può servire che hanno più o meno tutte le applicazioni ma qua è fatto molto bene funziona molto bene quello su cui volevo tornare è il discorso del tempo reale con quel dongle usb che fa ethernet wifi che abbiamo montato nel video numero due abbiamo un aggiornamento che dovrebbe essere di circa 10 secondi quindi quello che vediamo adesso questi 491 watt sono di 10 secondi fa non è proprio in tempo reale nessun inverter fotovoltaico con un cloud vi darà mai i dati in tempo reale ma avere un aggiornamento a 10 secondi e non a mezz'ora fa diciamo che è molto più preciso molto più attendibile l'app mi piace io di app di fotovoltaici ne ho un casino nel telefono chiaramente però questa fa esattamente quello che fanno le altre ci dà delle informazioni con uno storico ben definito ed è graficamente molto piacevole anche se volessimo lasciarla in un tablet fisso in casa sicuramente avrebbe anche un buon impatto estetico ora vi faccio ancora vedere come lavora in modalità eps quindi in full backup allora abbiamo lo stato impianto normale la casa in questo momento sta tirando 640 watt oggi abbiamo prodotto 3.8 kilowatt ora batteria carica stato normale allora ci richiamo al quadro dove adesso non guardate il casino qua un work in progress dove ho il generale della casa il differenziale dell'inverter e il contattore per fare lo scambio con il backup tiriamo giù i grid quindi stacchiamo completamente il contatore col sezionatore avete visto il tempo di intervento che è quello del contattore l'inverter inizia a fare bip e vedete che va in modalità eps quindi mi legge il consumo che rileva adesso direttamente sull'uscita eps quindi 550 volt ampere vedete che cambia l'unità di misura e lui continua a funzionare chiaramente adesso la batteria scenderà però la terra anche carica perché continuerà a funzionare il fotovoltaico fotovoltaico che continua a funzionare perché perché in questo caso sapete che ho un impianto taigo rimane alimentato perché bisogna sempre collegare anche il taigo alla linea che va sotto backup in questo momento il contattore vedete che verde perché ha switchato e noi stiamo alimentando con il backup vediamo se esce monofase o bifase i fili sono 1 e 2 sulla fase abbiamo una fase e sul neutro no quindi automaticamente esce monofase anche in modalità eps vi ricordo che questi due fili che arrivano dalla eps nella realtà dei fatti sono sempre alimentati dall'inverter questo non è l'unico modo per gestire un backup un full backup è una funzione eps si può anche volendo collegare direttamente la casa in uscita sull'inverter da non dover neanche fare lo switch lui continua a lavorare in modalità eps tutto normale ora ridiamo grid si riattiva il contattore presenza rete cosa succede sull'inverter vedete che va via la modalità eps va in attesa fa il controllo rete dei 300 secondi quando avrà terminato tornerà in modalità on grid vi faccio vedere gli ultimi 10 secondi dove farà poi tutto il controllo sentirete i relè che che switchano perfetto avete sentito che ha fatto tutti gli switch del caso è tornato in modalità normale vedete che adesso segna i watt perché sono quelli letti dal meter e non quelli letti come volt ampere direttamente dall'uscita di backup riprende a caricare a funzionare in modalità on grid e i led segnalano stato impianto normale connesso fantastico ci sono vari modi di gestire il backup lps però lì dipende da installatore installatore ci sono vari modi per gestire lo switch che sia manuale o automatico siamo arrivati alla fine di questa serie di video dunque cosa posso dirvi di questo sistema solax come avevamo già detto all'inizio è un colosso a livello mondiale questo prodotto che abbiamo provato è l'ultimo arrivato ma ci sono anche altri sistemi fotovoltaici non fatti in questo modo ma che solax produce e vende in grosse quantità non è da escludere che non proveremo qualche altro prodotto di questo marchio perché mi è impiaciuto ho avuto il piacere di conoscere proprio il titolare il capo dell'azienda che è venuto a trovarci dalla cina ci sono delle idee di sviluppo di nuovi prodotti quindi sicuramente arriveranno poi delle novità questo è tutto se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando che non costa nulla per i riferimenti aziendali trovate tutto quanto in descrizione per comprare i prodotti potete contattare il vostro distributore o chiedete a solax di indirizzarvi verso il miglior distributore come privato tendenzialmente un prodotto che dovete chiedere al vostro installatore ci vediamo alla prossima prova di un nuovo impianto il prossima diretta giovedì sera o se passate negozio da torino o la macchinetta del caffè nuova grazie a tutti ciao da massi dattoli grazie 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 grazie